Ciao, noi siamo la mamma di Sant'Aggio. Ciao! E oggi faremo una sfida dei salti avanti stoppati. Faremo 5 giri che ne stoppa di più vince. E lì hai fatto parallele prima? Sì. Perché sei tutta bianca in faccia. Vai! No! Niente! No! No! Quasi! Vai, batti giù e salta avanti. Esatto! Passa dietro Ari, dietro di me. Di chiappe l'hai bloccata. Quasi! Secondo giro, per ora tutto è zero. Sì. No! No! Troppo a spinta, ragazzi. Brava! Uno! Eh, quasi! Sì! Vai! Vai! Secondo? No, terzo. Vai! Brava! Brava! Tenete il conto, eh! Bravissimo! Due! Dai, quasi! No, ha fatto un saltino. Dai! Sì! Brava! Quarto giro. Brava! Dai, non muovere i piedi! Brava, Già! Brava! Brava! No! Peccato, nudo! Ah, quasi! Brava! Brava, Cristian! Brava! Adesso siamo al quinto. Quanto siete? Due! Allora, Emma? Due! Greta? Due! Mille! Due! Già! Adesso! Due! Ok, vai! Sì! Sì! Quindi? Due! Da tre! Stoppalo! Brava! Quindi? Tre! Mille! Non lo so! Glielo diamo? Sì! Va bene! Vai! Adesso! Sì! No! Sì! Brava! Eh, quasi! Va, rimannaggia! E qui? No! Vai! No! Quindi? Chi ha tre? E basta? Allora, ho vinto Greta! E a due chi è? Ok, facciamo lo spareggio di quelle che sono a due. Facciamo tre giri, chi ne fa di più vince. No! No! Troppo presto! Grazie! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, otros, 6, 7, 6, 6, 6, 7,2, 6 zu, 6, 7,7, 6, 7, 7, JR. Non ti aprire, ultimo giro. Brava! Peccato! Brava! No! Quindi? Quanto siete? Io sono a quattro. No, in questo giro qua. A due, a due. Tre, no? Non li hai bloccati tutti e tre? Li hai bloccati tutti e tre, Emile? No. Ah, quindi due. E allora quelle a due... Due giri questa volta. Dai Gio! Dai Gio! Troppa spinta! Dai Gio! Brava, Emile! Dai Gio! Dai Gio! Dai Gio! Brava! Dai Gio! Brava! Dai Gio! Dai Gio! Dai Gio! Dai Gio! Dai Gio! Brava! Quindi quanto siamo? Ale? Due, due. Uno. Quindi Mile e Ale. Giusto? Andate a farlo. Un giro! Dai Gio! Dai Gio! Dai Gio! sono riusciti! No! Si stoppi! Sei seconda! Vai Ale! No! Rifate! Dai Gio! Svei Mile! Dai Gio! Brava! Vai Ale! Vai Ale! Vai Ale! Svei fatto! No! Rifate! brava quindi 1000 seconde e alle terza giusto? e Greta prima brava se non volete sentite il mio ma se avventure dentro fuori alla palestra lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao ciao